Ciao e benvenuto in questo video che ti accompagnerà passo passo nel fare un po' di chiarezza sull'argomento dell'ansia. Per capire cos'è l'ansia inizieremo parlando dell'emozione della paura e della sua connessione con la tematica della sopravvivenza. La paura è un'emozione che provano tutti al di là dell'età e del sesso. È un'emozione potente e utile che ha permesso all'uomo di sopravvivere perché lo ha spinto a prevenire i pericoli, per esempio quello di rimanere senza cibo o di essere attaccato, spingendolo a trovare delle soluzioni per affrontarli, trovando quindi modalità sempre migliori di accedere a risorse alimentari o di costruire armi per difendersi. Per l'uomo percepire di avere il controllo del pericolo e dunque sentirsi al sicuro è stato fondamentale per sviluppare le proprie capacità cognitive. Infatti se ci si sente troppo in pericolo è difficile memorizzare, imparare nuove cose o sviluppare un pensiero creativo. Oggi si utilizza maggiormente il termine ansia che paura, tanto che vengono a volte utilizzati in modo intercambiabile. Diciamo che una reazione di paura è più funzionale ad affrontare un pericolo presente e immediato, ad esempio se ho paura dei cani scappo non appena ne incontro uno. L'ansia invece riguarda la preoccupazione per un pericolo che non è immediato ma che potrebbe presentarsi in futuro. Ad esempio potrei andare al parco e provare ansia pensando che all'improvviso da dietro un cespuglio possa uscire un cane, anche se in quel momento non è realmente presente nessun cane. Incontrandovi nelle scuole abbiamo potuto ascoltarvi e capire come il pericolo che innesca la risposta ansiosa ai giorni d'oggi sia spesso più psicologico che fisico. Ad esempio l'ansia può essere generata dal timore di fallire o di deludere i propri familiari, dalla preoccupazione per come siamo visti dalle altre persone, dal timore per il futuro e dall'eventuale bisogno di spostarsi all'estero per trovare lavoro. Altri motivi possono essere legati ai rischi a cui va incontro l'ambiente in cui viviamo e di conseguenza le ripercussioni che ciò può avere sulla nostra salute. Inoltre pensando all'ansia per la salute non si può non pensare a questo delicato periodo in cui a causa del coronavirus possono nascere preoccupazioni nuove legate sia alla nostra salute che a quelle delle persone a cui vogliamo bene. Oltre a queste vi sono altri tipi di reazioni ansiose legate alle esperienze del passato in cui ci si è sentiti in pericolo perché esposti ad esperienze emotive forti in una fase evolutiva in cui la capacità del cervello di elaborarle erano ancora insufficienti. Ma l'ansia è utile? Come dice il detto il troppo stroppia. L'ansia è utile, molto utile, ma come in ogni cosa è il troppo che fa male. Sì avete capito bene l'ansia è utile. Può suonare strano ma a livelli moderati di ansia migliorano le prestazioni. Il nostro corpo infatti si attiva, l'attenzione si fa più acuta, mentalmente e fisicamente si è più ricettivi agli stimoli del contesto. Pensiamoci bene, chi fosse totalmente rilassato durante un esame, un incontro sportivo o in una discussione importante non darebbe il meglio di sé. Ad esempio a volte capita di provare ansia e mettersi a studiare sodo, attivarsi per organizzare tempo e spazio per dedicarsi a quella tal cosa, focalizzare la propria attenzione su quella situazione concentrandosi al massimo. In buona sostanza se un po' di ansia prepara il tuo organismo al meglio, troppa lo può far andare fuori giri. Per affrontare e conoscere meglio l'ansia è utile a suddividerla in tre componenti costitutive. La componente corporea, ovvero come reagisce il corpo, quali sensazioni provi, come reagisce il tuo cuore, cosa succede alla tua pancia e i tuoi muscoli come sono. La componente cognitiva, ciò che passa in mente da pensieri, immagini, ricordi. Per capire meglio queste componenti ti chiediamo ora di osservare l'esempio che ti proponiamo nella slide successiva. In questo esempio troviamo Eleonora che si sente molto a disagio quando esce da sola. A livello corporeo probabilmente proverà tachicardia, rigidità muscolare e avrà gli occhi spalancati come possiamo osservare nella fotografia. La sua mente inizierà a fare pensieri come quelle persone stanno ridendo di me, devo velocemente arrivare, non ce la posso fare. E a livello di comportamento molto probabilmente si muoverà guardandosi alle spalle, controllando cosa fanno gli altri e forse addirittura la prossima volta se avrà l'occasione eviterà di uscire. Nei prossimi moduli andremo meglio in dettaglio ad affrontare ognuna di queste componenti per aiutarvi a identificare meglio e per sviluppare alcune strategie di gestione. Ti chiediamo ora di pensare a una situazione che ti ha creato ansia in passato e provare a differenziare le varie componenti. Non preoccuparti se non ci riesci, nei prossimi moduli ti daremo altri strumenti per aiutarti. Per poterti esercitare abbiamo creato una scheda che potrai decidere se utilizzare con i tuoi genitori, insegnanti o in autonomia e che trovi negli allegati alla descrizione di questa attività. Ti ringraziamo per la tua attenzione e ci vediamo nel prossimo modulo.